buongiorno a tutti e ben trovati nell'angolo verde di angela per l'orto 2020 ho deciso di piantare il fagiolo sia arrampicante che nano e oggi in questo video vi mostrerò come ho fatto la risposta al quiz precedente è il basilico i miei complimenti dunque a chi ha risposto correttamente qui metterò quello arrampicante pongo tre paletti da una parte all'altra e leggo del filo per favorire l'indicazione di dove creare il solco con un punteruolo pratico un foro a a distanza di circa 5 centimetri e qui pongo due semi subito dopo con le mani comprimo il terreno per levare eventuali bolle d'aria predispongo la rete in cui si dovrà arrampicare e la blocco in cima con pezzetti di rafia nei giorni successivi ha piovuto e non ho avuto bisogno di innaffiare come vedete i semi sono prossimi a fuoriuscire predispongo il tubo gocciolatore e lo fisso assieme alla rete con dei ferri ripiegati a un è passato circa una settimana e i semi sono già tutti germinati e questo è il loro sviluppo dopo circa due settimane attorno agli alberi metto invece quello nano che non richiede sostegni il principio lo stesso crea un solco attorno all'albero e qui pongo in ogni buca almeno cinque semi questo perché essendo la pianta a sviluppo determinato occupa poco spazio non rimane che attendere il momento del raccolto prima di concludere il quiz di oggi osservate questa foto sapete dirmi di quale pianta si tratta nel prossimo video la risposta corretta non mi rimane a questo punto che salutarvi e come dico sempre alla fine di ogni video ciao e una buona giornata a tutti buona giornata a tutti buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata